Minaccia aggravata, lesioni, detenzione, illegale di arma e spari il luogo pubblico, questi reati di cui dovrà rispondere un uomo di origini campane ma residenti in Valdarno, finito in manette a terra nuova Bracciolini, ad infiammare l'animo dell'uomo, probabilmente un complimento di troppo fatto alla figlia. Le indagini dei carabinieri erano partite ad inizio settembre, quando era stato segnalato un uomo armato di pistola nel parcheggio di un noto locale di terra nuova. I militari però non avevano fatto in tempo ad arrivare sul posto che era arrivata anche un'altra segnalazione. Un uomo nel centro di Montevarchi stava infatti esplodendo, colpi di arma da fuoco. La pattuglia era così riuscita a raccogliere diversi bossoli sulla carreggiata ma dell'uomo non c'era più traccia. I militari così erano tornati nel parcheggio del locale per raccogliere testimonianze sull'accaduto. Era partita la caccia all'uomo armato. I primi elementi raccolti riferivano di una lite tra una famiglia che si trovava all'interno del locale per trascorrere la serata e un ragazzo straniero, un diverbio nato probabilmente da un complimento fatto alla figlia. Uscito dal locale alla ricerca della persona che poteva aver infastidito la giovane, l'uomo prima aveva colpito con un pugno uno sconosciuto causandogli una ferita profonda. Poi, anche armato di pistola, il diverbio era continuato con il personale di vigilanza del locale. L'uomo infine si era allontanato con la famiglia. Le prime attività di indagine avevano portato ad un'immediata perquisizione nell'abitazione dell'uomo, ma senza trovare l'arma. Gli ulteriori accertamenti hanno poi portato a raccogliere elementi sufficienti a ritenere che l'uomo della rissa locale fosse lo stesso degli spari in centro a Montevarchi. La pistola non è ancora stata ritrovata, mentre per l'uomo sono scattate le manette a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP del Tribunale di Arezzo.